Ciao a tutti qua da Garrubo, siamo tornati da test inferno, stiamo scendendo fra i golosi e scendiamo questo se mi sentite ancora meglio è perché il nuovo microfono ragazzi che chi l'ha visto su facebook, chi lo vuole vedere, l'ho messo su facebook la foto del mio nuovo microfono ora silenzio ok ragazzi, Cerbero la vedo brutta perché non ricordo un cavolo penso che si nota non ricordo nulla e prendo mazzate da tutte le parti anch'io no, ce l'ho fatta schivare cosa è successo? vai vai ragazzi spacco sti denti che tieni schifoso quella eh, sei cascato guardaci tua sei cascato oh, R2 ho spinto R2 sono un po' una pippa queste cose, lo sapete? triangolo triangolo decapitation time fuori uno fuori uno bitches mi schiave tutto per tutto mi schiave tutto per tutto a me non mi schiavo nulla ancora ah, sei fissato vai, rischialo ho schivato, non è possibile vai, 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 vai teste di cazzo triple guardate le doppie ok un'altra R2 così ne rimane una sola vieni qua vieni qua ti catafratto tutto ola decapitation time number two ora d'acqua te eh, mo come ti via ah, ok direi che è fattibile sì fattibile sapere cosa la micchia la mia oh, oddio è uscito pazzo oh ma devi fare un attimo i cazzi tu devi fare un attimo i cazzi tu oh ancora prima, prima, prima che attacca niente, non ce l'ho fatta ci ho fatto colpire lo stesso ma va bene R2 di nuovo oh, cazzo abbiamo uccisione interna bestiale buh 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 col potere di Gesù buh mamma mia Montesi è con noi Montesi è con noi apprendistato di bla 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 il gran verbo è morto il gran verbo oh yeah andiamo avanti andiamo avanti ok siamo fra i golosi oh cazzo what the fuck me ne ho dimenticato di questi questi cosi me ne ero dimenticati dobbiamo stare molto attenti no porca miseriaccia porca ho molta paura ricarichiamo quello che dobbiamo ricaricare oh ricarica di vita sempre ben accetta ma si scende eh dobbiamo stare molto attenti eh manco casco eh manco il tempo da arrivare mi danno what the no 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 rage time rage 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 distacco tutto il padre ok distruzione totale di ah no non hai capito cosa ho detto non mi vedo ho detto di distruzione totale distruzione totale distruzione totale distruzione totale di di distruzione totale totale le oh basta 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 c'è sempre di più a rompere le palle oh ah sono gli acidi per terra amico non ero accorto c'ho un vermo eccolo eccolo oh e tanto cazzo di ci vuole per moriiiire oh mi dovete fare incazzare per forza no cazzo non mi ricordo se l'ultimo loss eh aiuto non ricordo non posso tornare indietro no ah si un attimo fatemi vedere fatemi vedere eh sto uguale però ma vai condanniamo e basta vai noi siamo stronzi vai ok c'è già un punto di salvataggio e il prossimo mi sa che è molto lontano per questa puntata vi saluto qua ragazzi lo so che è un po' cortina ma non vorrei dilungarmi troppo sennò il video diventa enorme ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi io lo voglio vedere con voi ragazzi eccolo qua non so perché fa questi numeri bruttissimi li sta caricando però adesso sta andando vediamo cosa succede amico mi oddio oddio oddio